Lo scrittore di Battipaglia Leonardo Mastia è stato insegnito a Chieti del premio intitolato Alluca Romano. La sua ultima fatica letteraria, il sole d'argento, continua dunque a riscuotere successo in campo nazionale e l'ambito riconoscimento ne è la prova tangibile. Onorato e felice di questo premio, dice l'autore, un piccolo traguardo che mi spinge a fare meglio. Un riconoscimento prestigioso nell'ambito di questo premio internazionale di narrativa Alluca Romano le 5 a sera, due giorni fa, nel fasto, veramente un edificio di una magnificenza unica, il palazzo della provincia di Chieti in questa sede si è tenuto la settima edizione di questo premio dove ho avuto questo prestigioso riconoscimento un premio alla cultura in relazione naturalmente alla mia ultima opera, il sole d'argento che sta ottenendo veramente dei risultati lusinghieri un poco in tutta Italia. Quali sono le emozioni che ha provato? Beh, indubbiamente inizialmente è stata sorpresa innanzitutto, una sorpresa perché non mi aspettavo un riconoscimento da una regione abbastanza distante, qual è l'Abruzzo, insomma, non mi aspettavo che potessero in qualche modo premiare la mia opera. Però poi mi sono reso conto che effettivamente era una giuria prestigiosa, una giuria di spessore, c'era anche, ho avuto l'occasione di rivedere in quell'ambito un magistrato della prima sezione della Corte di Cassazione che conoscevo da anni, il quale aveva avuto un premio anche lui per la poesia però e quindi veramente devo dire che è stata di una soddisfazione incredibile. Il Sole d'Argente è stato presentato per la prima volta a Battivaglia, proprio nel castello, poi sono stato invitato a presentarlo a Procida, nell'ambito della manifestazione Procida Capitale d'Italia, poi l'ho presentato a Salerno, alla Feltinelli, a Roma, alla libreria Cerere, l'ho presentato a Potenza, l'ho presentato un po' adesso la prossima presentazione sarà ancora a Salerno, alla libreria Guida, il 10, e poi lo presenterò a Bellizzi, presso la casa comunale di Bellizzi, se non sbaglio il 24 e poi così a seguire l'editore si sta interessando anche per una presentazione a Milano alla Bicocca e poi credo che parteciperò, almeno così mi hanno anticipato, al Salone del Libro di Torino nell'aprile prossimo 21, quindi diciamo ci sono soddisfazioni che mi rendono orgoglioso del mio lavoro.